Richiamo brevemente, venerabili padri, fratelli e carisse e sorelle, il tema e lo spirito di queste meditazioni guarisimali. Ci siamo proposti di reagire alla tendenza diffusissima di parlare della Chiesa et si Christus non daretur, come se Cristo non esistesse, come se si potesse capire tutto di essa prescindendo da Lui. Ci siamo proposti però di reagire a ciò non cercando di convincere il mondo e i suoi mezzi di comunicazione, ma rinnovando e intensificando la nostra fede in Cristo, non dunque in chiave apologetica, ma in chiave spirituale. Per parlare di Cristo abbiamo scelto la via più sicura che è quella del dogma. Cristo vero uomo, Cristo vero Dio, Cristo una sola persona. Quella del dogma è una via tutt'altra che vecchia e sorpassata. La terminologia dommatica della Chiesa primitiva, ha scritto Kierkegaard, che è uno dei rappresentanti più qualificati del pensiero esistenzialista moderno. Dunque dice, la terminologia dommatica della Chiesa antica è come un castello fatato dove riposano in un sonno profondo i principi e le principesse più leggiadre. Basta soltanto svegliarli perché balzino in piedi in tutta la loro gloria. Ecco, si tratta proprio di questo, venerabili pari e fratelli e sorelle, di risvegliare i dogmi, di infondere in essi vita, come quando lo Spirito Santo entrò nelle ossa aride viste da Ezechiele e se ripresero vita diventarono un esercito. La volta scorsa abbiamo cercato di fare questo nei confronti del dogma di Cristo, vero Dio. Nell'anno 111 o 112 d.C., Plinio il Giovane, governatore della Bitinia del Ponto, scrisse una lettera all'imperatore Traiano, chiedendogli indicazioni su come procedere nei processi nei confronti dei cristiani. Secondo le informazioni prese, scrive all'imperatore, tutta la loro colpa o errore consiste nell'essere soliti riunirsi in un giorno stabilito prima dell'alba e intonare a cori alterni un inno a Cristo come a Dio, innum Cristo quasi Deo dicere. Siamo in ansia minore a pochi anni dalla morte dell'ultimo apostolo e i cristiani nella loro liturgia proclamano già la divinità di Cristo. La fede nella divinità di Cristo nasce dunque col nascere della Chiesa. Ma che ne è oggi di tale fede? Facciamo anzitutto una ricostruzione per sommi capiti della storia del dogma della divinità di Cristo. Esso fu sancito, come sappiamo, solennemente nel Concilio di Nicea del 325, con le parole che ripetiamo nel credo, credo in un solo Signore Gesù Cristo, Dio vero da Dio vero, generato e non creato, della stessa sostanza del Padre. Al di là dei termini usati, il senso profondo della definizione di Nicea, come l'ha interpretato Atanasio, che ne fu il testimone e il difensore più qualificato, il senso profondo è che in ogni lingua e in ogni cultura Gesù deve essere programmato Dio, non in qualche senso derivato che la parola Dio ha in quella cultura, ma nel senso più forte che la parola Dio ha in quella cultura. Ci volle quasi un secolo di assestamento prima che questa verità fosse recepita nella sua radicalità dall'intera cristianità. Una volta superati i rigurgiti di arianesimo dovuti all'arrivo di popoli barbari, di goti, di sigoti, longobardi, il dogma divenne patrimonio pacifico di tutta la cristianità, sia orientale che occidentale. La riforma protestante lo mantenne intatto, anzi ne accrebbe la centralità. Inserì tuttavia in esso un elemento che più tardi darà adito a sviluppi negativi. Per reagire al formalismo e al nominalismo che riduceva i dogmi agli esercizi di virtuosismo speculativo, i riformatori affermano, e questa è una citazione di un documento ufficiale di Melantone. Conoscere Cristo significa riconoscere i suoi benefici, non indagare le sue nature e i modi dell'incarnazione. Il Cristo per me diventa più importante del Cristo in sé. Alla conoscenza oggettiva-dommatica si oppone la conoscenza soggettiva intima. Alla testimonianza esterna della Chiesa si antepone la testimonianza interna che lo Spirito rende a ciascuno nell'intimo del cuore. L'illuminismo e il razionalismo trovarono in ciò il terreno adatto per la demolizione del dogma. Per Kant ciò che conta è l'ideale morale proposta da Cristo più che la sua persona. La teologia liberale del secolo XIX riduce praticamente il cristianesimo alla sola dimensione etica, in particolare alla dottrina della paternità di Dio. Si spoglia il Vangelo di tutto il soprannaturale, miracoli, visioni, naturalmente risurrezione di Cristo. Il cristianesimo diventa soltanto un sublime ideale morale che può prescindere al limite dalla divinità di Cristo, perfino dalla sua esistenza storica. Gandhi, che purtroppo aveva conosciuto il cristianesimo in Occidente in questa sua versione, ha scritto una volta, «Non mi importerebbe nemmeno se qualcuno dimostrasse che l'uomo Gesù in realtà non visse mai, e che quando si legge nei Vangeli non è che frutto dell'immaginazione dell'autore, perché il sermone della montagna resterebbe pur sempre vero ai miei occhi». La versione a noi più vicina di questa tendenza riduttiva del cristianesimo è quella resa popolare alcuni decenni fa da Rudolf Bultmann, in nome della demitologizzazione. Cito, «La formula Cristo è Dio è falsa in ogni senso quando Dio viene considerato come essere oggettivabile, sia essa intesa secondo Ario o secondo Nicea, in senso ortodosso o liberale, falsa». Essa è corretta, invece, se Dio viene inteso come l'evento dell'attuazione divina. In parole meno velate, Cristo non è Dio, ma in Cristo c'è Dio, o agisce Dio. Siamo ben lontani, come si vede, dal dogma definito a Nicea. Si dice di volere in questo modo interpretare il dogma antico con categorie moderne, ma in realtà non si fa che riproporre a volte con gli stessi termini, e questo uno storico del cristianesimo antico lo sa bene, non si fa che riproporre con gli stessi termini soluzioni antiche che la città si è considerata in realtà. Siamo ben lontani, come si vede, dal dogma definito a Nicea. E' a questa domanda che vogliamo rispondere. Partiamo proprio dai Vangeli. Nei Sinottici la divinità di Cristo non è mai dichiarata apertamente, ma è continuamente sottintesa. Ripensiamo ad alcuni detti di Gesù. Il Figlio dell'uomo ha il potere in terra di rimettere i peccati. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, nessuno conosce il Padre se non il Figlio. I cieli e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Il Figlio dell'uomo è Signore anche del sabato. Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria, tutti gli angeli con Lui siederà sul trono della sua gloria. Davanti a Lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il Pastore separa le pecore dalle capre. Chi, se non un Dio, può rimettere i peccati, lo sapevano bene gli interlocutori? E chi può proclamarsi giudice finale della storia degli uomini? Come basta un capello o una goccia di saliva oggi per ricostruire il DNA di una persona, così basta una sola riga del Vangelo, letta senza preconcetti, per ricostruire il DNA di Gesù. Per scoprire ciò che egli pensava di se stesso, ma non poteva dire apertamente perché non l'avrebbero capito. La trascendenza divina di Cristo trasuda letteralmente da ogni pagina del Vangelo. Ma è soprattutto Giovanni, che ha fatto della divinità di Cristo lo scopo primario del suo Vangelo, il tema che tutto unifica. Conclude il suo Vangelo dicendo, «Questi segni sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome». E conclude la prima lettera, la sua prima lettera, quasi con le stesse parole. «Questo vi ho scritto perché sappiate che possedete la vita eterna voi che credete nel nome del Figlio di Dio». Un giorno di tanti anni fa, celebravo la messa in un monastero di clausura. Il brano evangelico della liturgia era la pagina di Giovanni in cui Gesù pronuncia ripetutamente il suo «Io sono». Se non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. Quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora saprete che io sono. Prima che Abramo fosse, io sono. Il fatto che le parole «Io sono» nel lezionario fossero scritte con due lettere maiuscole contro ogni regola grammaticale, ma poi certamente unito anche a qualcosa, un fatto più misterioso, fece scoccare una scintilla. E la parola letteralmente esplose dentro di me. Io sapevo dai miei studi che nel Vangelo di Giovanni c'erano numerosi di queste «Io sono» e «go eimi» di Gesù. Sapevo che questo era un fatto importante per la sua cristologia, che con essi Gesù si attribuisce il nome che Dio in Isaia rivela di se stesso. Perché mi conosciate e crediate in me e comprendiate che io sono. Isaia 43, 10. Ma la mia era una conoscenza libresca, inerte, non suscitava emozioni particolari, scolastica. Quel giorno era un'altra cosa. Si era nel tempo pasquale e sembrava che il risorto proclamasse lui stesso il suo nome divino al cospetto del cielo e della terra. Il suo «Io sono» illuminava e riempiva l'universo dentro di me. Io mi sentivo piccolo, piccolo, come chi assiste in disparte a uno spettacolo straordinario, un fenomeno della natura. Non si trattò che di un'emozione di fede, niente di più, ma di quelle che una volta sperimentate non si dimenticano più. C'è da rimanere stupiti di fronte all'impresa che lo Spirito Santo ha portato a termine con Giovanni, con questo discepolo. Egli ha abbracciato i temi, i simboli, le attese, tutto ciò, insomma, che c'era di religiosamente vivo nel mondo, sia giudaico che ellenistico, facendo servire tutto a quest'unica idea, meglio, a quest'unica persona, Gesù Cristo, figlio di Dio, salvatore del mondo. Ha imparato, io dico, la lingua degli uomini del suo tempo per gridare in essa, con tutte le forze, l'unica parola, il verbo, che salva. Solo una certezza che ha dietro di sé l'autorità stessa e la forza di Dio poteva dispiegarsi in un libro con tale insistenza e coerenza, arrivando da mille punti diversi sempre alla stessa conclusione, e cioè all'identità totale di natura tra il padre e il figlio. Io e il padre siamo una cosa sola. E da notare che sia in greco che in latino c'è il neutro, unum, unum sunt, siamo una sola natura, diremmo noi oggi, non unus, una sola persona. C'è tutta la teologia già dentro questa frase, io e il padre siamo una cosa sola. Come per l'umanità, anche a proposito della divinità di Cristo, adesso possiamo mostrare come il dogma antico, oggettivo e ontologico, è capace di accogliere e valorizzare il dato moderno, soggettivo e funzionale. Alla logica dialettica dell'aut-aut sostituiamo quella cattolica dell'et-et. Nessuna delle cosiddette cristologie dal basso, quelle per intenderci che partono dal Gesù profeta e ascatologico, rivelatore del padre, oppure il Gesù in cui la coscienza di Dio ha attinto il suo massimo livello, questo è Schleiermacher, o anche il Gesù liberatore di una certa teologia della liberazione, nessuna di queste cristologie, ripeto, è riuscita a elevarsi fino ad abbracciare il vero mistero della fede cristiana e salvaguardare la piena divinità di Cristo. La ragione l'aveva data Gesù nel Vangelo, dicendo che nessuno è mai salito al cielo se non colui che è disceso dal cielo. È possibile, infatti, a Dio se vuole farsi uomo, ma non è possibile a un uomo anche volendolo farsi Dio. Con queste premesse possiamo tornare a valorizzare tutta la dimensione soggettiva e personalistica del dogma. Il Cristo per me, messo in primo piano dai riformatori. E' Cristo conosciuto dai suoi benefici e dalla testimonianza interiore dello Spirito Santo. Questo è il frutto migliore dell'ecumenismo, quello delle differenze riconciliate, direbbe il nostro Santo Padre, non contrapposte. Non è una concessione che facciamo pro bono pacis, ma un bisogno, un arricchimento reciproco. Noi tutti abbiamo bisogno di dare alla nostra fede questa dimensione personale, intima, perché essa non sia morta ripetizione di formule antiche o moderne. Su questo punto siamo tutti chiamati in causa, cattolici, ortodossi, protestanti, allo stesso modo. Passare dalle formule alla vita, dal pensato al vissuto, direbbe il nostro Santo Padre. San Paolo dice che con il cuore si crede per ottenere la giustizia, corde creditor. Con la bocca si fa la professione di fede per avere la salvezza, ore fit confessio. Dunque sono due stadi, corde creditor, ore fit confessio. Nella visione cattolica, come in quella ortodossa, in seguito poi anche in quella protestante, la professione della retta fede, cioè il secondo momento, è diventato tanto importante da lasciare nell'ombra il primo momento, quello che avviene dentro, corde creditor. Tutti i trattati, i titolari de fide sulla fede, scritti dopo Nicea, parlano dell'ortodossia, cioè delle cose da credere. Nessuno parla dell'atto di credere. Oggi diremmo, si parla della fide squè, non della fide squà. Questo primo atto di fede, proprio perché si svolge nel cuore, è un atto singolare, che non può essere fatto che dal singolo, in totale solitudine con Dio. Nel Vangelo di Giovanni sentiamo Gesù porre ripetutamente la domanda, chissà con che trepidazione. Credito. E ogni volta questa domanda suscita dal cuore il grido della fede, sì, Signore, io credo. Anche il simbolo di fede che ripetiamo noi, il credo, comincia al singolare, credo, non crediamo, credo e non solo Dio. E quando Gesù domanda, credete voi? O quando dice, la tua fede ti ha salvato? Non intende la fede in Dio. Questa era un'offesa per gli ebrei, domandare se credevano in Dio. Tutti credevano in Dio. Quando Gesù parla di fede, parla della fede in Lui. E questa è la fede quando Gesù dice, convertitevi e credete al Vangelo. Si parla di questa fede. Dobbiamo accettare anche noi, venerabili padri, fratelli e sorelle, di passare attraverso questo momento di prova, di subire questo esame. Esame. Se ha la domanda di Gesù, credi tu? E io ci metto il mio nome, credi tu, Raniero? Se uno risponde subito, senza neppure pensarci, è certo che credo, Signore. Anzi, trova perfino strano che si ponga una domanda del genere a un credente, a un sacerdote, a un vescovo. Vuole dire che probabilmente non si è ancora scoperto cosa significa veramente credere. La divinità di Cristo è la cima più alta, è l'Everest della fede. Crede in un Dio nato in una stalla e morto su una croce. Questo è molto più esigente che credere in un Dio lontano che ognuno si può raffigurare a modo suo, secondo il proprio sistema. Bisogna cominciare con demolire in noi credenti, in noi uomini di Chiesa, la falsa presunzione che quando alla fede stiamo a posto, semmai ci sarà da lavorare per la carità. chissà che non sia un bene per un po' di tempo non voler dimostrare niente a nessuno, ma interiorizzare la fede, riscoprire le sue radici nel cuore. È dalle radici del cuore che nasce la fede, diceva Costino. La prassi della Chiesa, e non solo della Chiesa cattolica, prevede una professione di fede da parte del candidato prima di ricevere il mandato di insegnare teologia. Questa professione di fede ha comportato spesso, oltre alla recita del credo, l'impegno a insegnare alcune cose precise o non insegnare altre cose altrettanto precise che erano in quel momento particolarmente delicate. Si pensi al giuramento antimodernista. A me pare che si dovrebbe accertare soprattutto una cosa, che chi insegna teologia ai futuri ministri del Vangelo creda fermamente nella divinità di Cristo. Accertare ciò mediante un frango e fraterno di scennimento con il proprio vescovo più che con i giuramenti, perché con i giuramenti non si è risolto mai niente. C'è stata tutta una generazione di sacerdoti dopo il Concilio, ma non a causa del Concilio, che è uscita dal seminario e si è presentata all'ordinazione con idee assai confuse e sbiadite su chi è Gesù. Su chi è quel Gesù che dovevano annunciare agli altri e che dovevano rendere presente sull'altare nell'Eucaristia. Molte crisi sacerdotali sono convinte, sono partite e partono da qui. quello che abbiamo messo in luce ha importanti conseguenze anche per l'ecumenismo cristiano. Esistono infatti due ecumenismi possibili, quello della fede e quello dell'incredulità. Uno che riunisce tutti quelli che credono che Gesù è il figlio di Dio e che Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo e uno che riunisce tutti quelli che si limitano a interpretare naturalmente ognuno secondo il proprio sistema queste cose. Un ecumenismo in cui al limite tutti credono le stesse cose perché nessuno crede più veramente niente, almeno nel senso forte della parola credere. La fondamentale distinzione degli spiriti nell'ambito della fede non è quella che distingue tra loro cattolici, ortodossi e protestanti, ma quella che distingue coloro che credono nel Cristo figlio di Dio e coloro che non più credono. C'è una unità nuova invisibile che si va formando e che passa attraverso le diverse chiese cristiane. Questa unità invisibile spirituale ha vitale bisogno a sua volta del discernimento della teologia del magistero per non cadere nel pericolo del fondamentalismo e di un soggettivismo sfrenato. Ma una volta intravista e scongiurata questa tentazione si tratta di un fatto che non si può in più ignorare. Il vero ecumenismo spirituale non consiste soltanto nel pregare per l'unità dei cristiani, ma nel condividere la stessa esperienza dello spirito di Cristo. Consiste in quella che Agostino chiama la Societa Sanctorum, la comunione dei santi, che a volte dolorosamente per colpa degli uomini non coincide più con la Comunio Sacramentorum, cioè con la condivisione degli stessi segni sacramentali. La fede nella divinità di Cristo è importante soprattutto in vista dell'evangelizzazione. Esistono edifici o strutture metalliche, penso che Anglatura Eiffel sia una di queste, così fatte che se si toglie una pietra, un elemento, crolla tutto. Tale è l'edificio della fede cristiana e questa pietra angolare è la divinità di Cristo. Tolta questo, tutto si sfalta e crolla, a cominciare dalla fede nella Trinità. Che bisogno abbiamo della Trinità da chi è formata se Cristo non è Dio? San Agostino diceva non è gran cosa credere che Gesù è morto, questo lo credono anche i pagani, i reprobri, tutti lo credono. Ma è una cosa veramente grande credere che è risorto. e concludeva la fede dei cristiani è la risurrezione di Cristo. La stessa cosa si deve dire dell'umanità e divinità di Gesù, di cui la morte e la risurrezione sono rispettivamente le manifestazioni. Tutti credono che Gesù sia uomo. Ciò che fa la diversità fra credenti e non credenti è credere che egli sia anche Dio. La fede dei cristiani dunque è la divinità di Cristo. Conoscere Cristo è riconoscere i suoi benefici diceva Melantone. Terminiamo proprio ricordando alcuni di questi benefici che sono capaci di rispondere ai bisogni profondi dell'uomo d'oggi e di sempre. Il bisogno di senso della vita e il rifiuto della morte. non è vero che l'uomo moderno ha smesso di porsi la domanda sul senso della vita. Alcuni anni fa un noto intellettuale italiano ha scritto la religione morirà non è un auspicio né tantomeno una profezia è già un fatto che sta accadendo e sta aspettando il suo compimento. Passata la nostra generazione forse quella dei nostri figli nessuno considererà il bisogno di dare un senso alla vita un problema davvero fondamentale. La tecnica ha portato la religione al suo crepuscolo. Fine della citazione. Certo non si interroga sul senso ultimo della vita chi se ne è dato nel frattempo altri di sensi. Ma quando questi altri scopi uno dopo l'altro svaniscono giovinezza salute fama molti tornano a porsi quella domanda e se la pongono ancora di più in questo tempo di pandemia in cui chiusi in casa uomini e donne laici e sacerdoti hanno finalmente o dovrebbero avere finalmente il tempo di riflettere e interrogarsi sul senso della vita. C'è un dipinto tra i più famosi dell'arte moderna una cui copia da autore ma una copia fu venduta alcuni anni fa per 180 milioni di dollari una copia rappresenta visivamente dove porta la convinzione che la vita non ha senso. Su uno sfondo rossastro che gli ispira già da solo angoscia un uomo attraverso correndo un ponte sorpassando due individui che sembrano ignari e indifferenti a tutto. Agli occhi sbarrati questa figura centrale con le mani intorno alla bocca emette un grido e si capisce che è un grido di disperazione. Parlo naturalmente del dipinto L'urlo di Edvard Munch Gesù ha detto io sono la luce del mondo chi segue me non camminerà nelle tenebre chi crede in Cristo ha la possibilità di resistere alla grande tentazione del non senso della vita che porta spesso al suicidio chi crede in Cristo non cammina nelle tenebre sa da dove viene sa dove va sa cosa deve fare nel frattempo soprattutto sa che è amato da qualcuno che per dimostrarglielo è salito sulla croce Gesù ha detto anche io sono la risurrezione e la vita chi crede in me anche se muore vivrà e l'evangelista più tardi scriverà ai cristiani questo vi ho scritto perché sappiate che possedete la vita eterna voi che credete nel nome del figlio di Dio egli è il vero Dio e la vita eterna proprio perché Cristo è il vero Dio e anche vita eterna e dà la vita eterna questo non ci toglie necessariamente venerabili pari e fratelli e sorelle la paura della morte ma dà al credente la certezza che la nostra vita non termina con essa ripensiamo a qualcosa di tutto questo quando la domenica proclamiamo il secondo articolo del credo che invito adesso umilmente a ripetere chi vuole anche a voce alta credo in un solo Signore Gesù Cristo unigenito figlio di Dio nato dal Padre prima di tutti i secoli Dio da Dio luce da luce Dio vero da Dio vero generato non creato della stessa sostanza del Padre per mezzo di Lui tutte le cose sono state create gloria Padre et Figlio et Spiritui Santo di Lui di Lui di Lui di Lui di Lui di Lui Grazie.